Sono Federico Tirone, Stefano Salzano, ma direi che sono il Messi e il Ronaldo del marketing odontoiatrico. Ho deciso di insegnare ai colleghi come gestire una struttura odontoiatrica. Il corso ti dà praticamente un diretto destro in faccia. Senz'altro il dare una forte motivazione alle persone e lo facciamo in maniera coinvolgente. Una figata, cioè non ti nascondono niente, si porta sempre a casa qualcuno. Sfrutta i nostri errori e parte dal livello di conoscenza a cui noi ci troviamo adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.